e sono con marco cerbi detto anche il capitano no scusami però insomma so che qui sds hotel siete anche un po una grande famiglia collaboratori amicizia questo è uno stand molto molto bello molto grande siete in tanti mi piace intervistarvi e anche far conoscere un po qualcosa in più di voi che siete sempre un nostro fedele sponsor entriamo nel vivo di quello che anche quest'altro prodotto marco illustrami captain questo è un nuovo prodotto un nuovo tastierino che può essere utilizzato in strutture alberghiere ed extra alberghiere e semplicemente a parte il design un po rivisitato ci permette di inserire un codice numerico utilizzare la tessera per entrare nella struttura sempre più smart perché poi la gente arriva non c'ha voglia di è sempre più complicato corriata la vita meno voi facilitateci l'esistenza perché veramente è sempre più complicato si corre alla grande qui anche qua sts hotel correte molto corriamo facciamo anche un sacco di eventi in cui corriamo sempre di più noi ci vatti no questo agli eventi partecipate anche ai nostri eventi come il padel anche come sponsor con dei gadget straordinari che so che avete questa vena creativa anche gli occhiali vedi che sono verifatissimi scusa ti puoi mettere a favore di camera un attimo perdonami grazie che classe con gli occhiali sts io li ho indossati anche per i simple minds al concerto all'auditorio un parco della musica e ho taggato tutta l'azienda va bene questo come rispondono gli albergatori a questi prodotti direi molto bene perché più ci avviciniamo alle loro esigenze anche estetiche più sono contenti delle nostre scelte io da donna non lo so io l'estetica la guardo quel tocco raffinato insomma uno ci fa caso dai nel giorno d'oggi apparire bene fa sempre il suo la forma che anche contenuto ma io che sono prodonna adesso adesso continuiamo la nostra intervista all'interno dello stand perché voglio presentarmi federica